And you may all your wish for the city requires Una serata evento a Teggiano per questo Natale 2023 con la musica corale che ha alietato le sere di festa del suggestivo centro storico di Teggiano. La locale proloco guidata dal presidente Biagio Matera ha voluto organizzare nell'ambito degli eventi natalizi un concerto speciale portando presso la storica chiesa di San Francesco in piazza San Cono la corale polifonica metelliana di Cava dei Tirreni per la serata dal titolo Christmas Carol. Un'esibizione musicale di grande prestigio anche per il valore della corale che negli anni ha raccolto sempre maggiori successi diventando tra i gruppi corali maggiormente apprezzati sia sul panorama nazionale ed anche internazionale. La proloco di Teggiano ha dunque voluto regalare un concerto di grande pregio per gli amanti della musica che mette insieme le diverse discipline artistiche ossia composizione, esecuzione, direzione oltre a tutto ciò che è legato allo strumento musicale. Una serata in cui i canti natalizi sono stati veri e propri protagonisti insieme alla forte capacità artistica dei membri della corale polifonica metelliana di Cava dei Tirreni diretta dalla maestra Pompilia Balzano. Ad accompagnare il coro nella sua esibizione anche la musica del pianoforte del maestro Raffaele Esposito e la voce del tenore il maestro Antonio Braccolino. Davanti ad una platea di appassionati che si sono recati presso la storica e suggestiva chiesa di San Francesco in piazza Sancona a Teggiano dunque il coro proveniente da Cava dei Tirreni ha offerto uno spettacolo di grande musica e di profonda arte impreziosendo il Natale valdianese grazie alla proloco di Teggiano che ha voluto così contribuire alla realizzazione del calendario di appuntamenti natalizi.